Un strumento immediato per conoscere le iniziative che porremo in essere e che per l'appunto è consultabile all'indirizzo chiennisindaco.it. Infatti nei prossimi due mesi daremo vita a una campagna di ascolto per raccogliere le idee e le proposte concrete di tutti i cittadini che poi faranno parte di quel programma per l'appunto per contribuire alla costruzione tutti insieme della Terra Nuova 2024. Ci sono già delle occasioni di confronto e di ascolto fissate, in particolar modo abbiamo tre incontri pubblici che si svolgeranno tutti alle ore 21 nei circoli delle frazioni, precisamente il 19 febbraio alla Penna, il 28 febbraio alla Cicogna e il 4 marzo alla Traiana. Insieme a queste iniziative più tradizionali come sono gli incontri pubblici ma che sono comunque utilissime, avremo anche dei momenti più informali. Uno di questi è un sindaco a cena, un'occasione conviviale per stare con i cittadini che mi vorranno invitare a casa per confrontarsi su quelle che potranno essere le priorità dell'amministrazione nel prossimo futuro. È possibile invitarmi in tal senso o con un contatto diretto oppure tramite il form che è predisposto nel sito. Tutte le idee che raccoglieremo verranno rielaborate e faranno parte del programma per l'appunto che proporremo ai cittadini per i prossimi cinque anni. C'è anche una sezione news e video per aggiornarsi e conoscere le novità e le azioni poste in essere e altre sezioni che invito a consultare. Ripartiamo con la passione che ci contraddistingue e aperti a quelle sono i contributi da parte della nostra comunità che in questi cinque anni ha testimoniato di essere una realtà solida e dinamica.